Fedora 34 introduce due importanti novità. La prima è l'ambiente desktop GNOME 40 e la seconda è l'utilizzo di Pipewire per l'audio. Prima di continuare ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Oggi voglio fare un video un po' diverso dagli altri, nel senso che non usarò una macchina virtuale e non seguirò nessun copione, ma utilizzerò il desktop che uso tutti i giorni e vado un po' a braccio. Allora, iniziamo con GNOME 40. La novità principale introdotta da GNOME 40 è la disposizione del dock e degli spazi di lavoro, che adesso invece che avere il dock a sinistra, il desktop al centro e gli spazi di lavoro a destra, hai la dock in basso, il desktop in mezzo e gli spazi di lavoro in alto. Questa è una modifica nata per far sentire più a loro agio chi viene da sistemi operativi diversi, ma d'altro canto rischia di alienare chi era già abituato da ormai dieci anni all'interfaccia di GNOME. L'interfaccia precedente di GNOME aveva un suo senso, perché visto che adesso abbiamo praticamente tutti i desktop monitor a 16 noni, abbiamo tantissimo spazio orizzontale e poco spazio verticale, per cui fare una disposizione con la dock a sinistra e gli spazi di lavoro a destra permette di utilizzare bene lo spazio orizzontale e di avere anche l'anteprima dei desktop a una dimensione decente. Con questa modifica pare che gli utenti o delle configurazioni multi monitor o dei portatili si trovino più a loro agio, però visto che io uso un desktop e un monitor solo non sono tra quelli per cui non mi posso pronunciare. Fatto sta che la prima inconvenienza che vedo è che gli spazi di lavoro in alto sono minuscoli, per cui andiamo a vedere nella bellissima app delle estensioni, installo una estensione che si chiama Just Perfection. Questa estensione ti permette di personalizzare praticamente tutto e le modifiche che ho fatto sono la disabilitazione della barra di ricerca che tanto compare appena premi dei tasti per cercare delle parole e soprattutto qui la dimensione dello switcher dell'area di lavoro la metto al massimo. Altra cosa, ho cambiato anche la posizione del menu orologio che mi trovo meglio, e anche le varie animazioni del desktop più veloci che mi rendono più produttivo, insomma. Con queste modifiche qui, vedi subito che i desktop iniziano ad avere una dimensione sensata. Ma diciamo questo è l'aspetto minore delle due novità di Fedora 34. La vera novità di Fedora 34 è l'audio via Pipewire e questo è fenomenale. Perché? Perché fino a ieri c'erano due mondi separati per l'audio di Linux. C'era il mondo desktop gestito da Pulse Audio e c'era il mondo professionale gestito da Jack. Ognuno con le proprie caratteristiche, con le proprie ottimizzazioni. Perché mentre l'audio desktop è pensato per un utilizzo, per ottimizzare al massimo l'utilizzo di CPU e di batteria, l'audio professionale invece è ottimizzato per avere la minor latenza possibile. Altra cosa, questi due mondi separati erano difficili da far convivere. Per cui, era facile avere un sistema con solo Pulse Audio, ma era difficile avere un sistema con Jack che si comportasse decentemente anche con le applicazioni Pulse Audio. Adesso abbiamo tutto unificato. Per cui, la cosa veramente bellissima è che possiamo utilizzare le applicazioni Jack, i plugin Jack, anche per quei software che prima richiedevano Pulse Audio. Faccio un esempio. Allora, se vogliamo usare la bassa latenza, allora, io qui intanto sto utilizzando il software Katia che si trova nel pacchetto Cadence, che è una suite di programmi pensati originariamente per Jack dal progetto KX Studio. Questo Katia mi permette di connettere gli input e gli output dei vari software. Per esempio, qui vedi che per OBS, che è il programma che sto utilizzando adesso per fare questo video, ho messo il capture sinistro dove ho collegato il microfono all'input sinistro e destro per avere un suono stereo in OBS. Una cosa che possiamo fare è che possiamo, invece che collegare direttamente l'input a OBS, possiamo mettergli dei plugin in mezzo. Ti faccio vedere. Uso un software chiamato Carla che permette di usare dei plugin e di connetterli via Jack. Per cui, aggiungo per esempio un rubber band mono pitch shifter con l'intenzione poi di avere una voce stile chipmunk. Per cui, vado a settare uno shift di sette semitoni e a questo punto vedi che il rubber band mi compare qui. Per cui, io posso collegare l'output del rubber band qui, collegare l'input al microfono e adesso senti la voce doppia per il fatto che ho ancora connesso qui. Ma, sconnettendo questo, adesso senti solo la mia voce stile chipmunk. Molto bene. Torniamo come prima. Perfetto. Chiudo Carla. E appunto, un'altra cosa buona è che il processamento di questi effetti è fatto in tempo reale. Faccio un altro esempio perché adesso senza bisogno di configurare niente, senza bisogno di stare a fare a botte con jack e pulse audio, posso anche applicare degli effetti in tempo reale per la chitarra utilizzando per esempio il software GuitarX. Anche qui basta connettere l'output di GuitarX all'input di OBS. Adesso stacco il microfono perché altrimenti si sentirebbe sia la chitarra che gli effetti e non è una bella cosa. ok, primo bug. Vediamo se ok, diciamo che l'ho risolta così. Per cui questo insomma cambia completamente le cose perché adesso finalmente abbiamo la possibilità di utilizzare qualsiasi software audio con qualsiasi software audio senza stare a fare distinzione tra jack e pulse audio. Questo è favoloso. grazie dell'attenzione ti ricordo che trovi i miei video sia su youtube che su odyssey trovi tutti i link in descrizione al prossimo video ciao ooooh ooooh ooooh